Ponte crollato a Roma È successo questa mattina, intorno alle ore 10 circa, nei pressi di piazzale Roberto Ardigò al municipio ottavo della capitale, nel quartiere Eur Il distacco di porzione di strada è avvenuto per urto accidentale di un camion in manovra che aveva la gru sollevata tanto da urtare la pista e abbattere il ponte dove è presente la pista ciclabile della via Laurentina, all'altezza dello svincolo per la Roma-Fiumicino Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno transennato l'area bloccando la circolazione delle auto Al momento è in corso un sopralluogo dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma. Per i rilievi del caso sul posto è giunto anche il personale del gruppo Tintoretto della Polizia Municipale di Roma Capitale Il personale intervenuto sul luogo dell'incidente ha transennato l'area e ha bloccato la circolazione delle automobili Al momento i Vigili del Fuoco stanno effettuando un sopralluogo per capire come procedere alla rimozione o alla riparazione del ponte Fortunatamente il distacco del ponte non ha interessato la carreggiata dove in quel momento transitavano le automobili La struttura del ponte si è piegata verso il marciapiede, evitando quindi di invadere la corsia Nella tarda mattinata di oggi è crollato anche un ponte sulla strada in località Pian di Spille, a Tarquinia Proprio nel momento in cui transitava una vettura guidata da un uomo L'uomo è stato trasportato all'ospedale ma non si conoscono le sue condizioni Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per la messa in sicurezza dell'area Che è stata chiusa al transito veicolare costringendo gli automobilisti a viaggiare in un tratto di strada dissestato Che è stata chiusa al transito veicolare costringendo i carabinieri e la polizia locale per la messa in sicurezza